Per la Roma inizia una nuova era dopo Mourinho, tocca a Daniele De Rossi, c'è il Verona. Rilancio lungo, male Folloruncio, Pellegrini può mandare il Sarawi in campo aperto, corre! Il Sarawi per Lukaku! Uno dei giocatori da riattivare, Romelu Lukaku, fa 1-0 ma gran lavoro. Di El Sarawi. Altra gran palla di Oysen per Lukaku. Cross, El Sarawi poi Pellegrini! In panchina Capitano Futuro, in campo, Capitano Presente, Lorenzo Pellegrini. Ecco il cross di Cabal verso Giuric! Chiede un tocco di mano qui. Tocca da Llorente. E calcio di rigore! Va Giuric! Altissimo! Continua la maledizione rigori per l'Ellas. Folloruncio, resiste, va via! È passato! Folloruncio! Da lontanissimo! Folloruncio! 2-1! C'è ancora partita! La Roma inizia con De Rossi battendo il Verona. 2-1!